eccoci eccoci ragazzi ragazzi bravi ragazzi grazie ora è arrivato il momento di farne un altro di successo ma noi in realtà non c'è in realtà lo dovete fare da contratto se non lo fate vi porto via la vita voi non avete capito ma se da contratto siete miei per tutta la durata del triennio ma io quelli come voi li conosco ragazzi piacete ai ragazzi della cr e giovanissimi quindi no parolacce per questo noi del consiglio vi abbiamo affiancato un professionista della censura ci penserà lui a suonare clacson a tre ponti bene ragazzi ora andate create create fate quello che sapete fare voi ma quindi non abbiamo capito in definitiva non avete capito ragazzi una di quelle cose che piacciono ai giovani ai giovanissimi quelle cose che fate voi in parrocchia a cg regole del divino trailer nico sbrega nico sbrega bellissima idea ora andate andate allora andiamo sbrega 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 nuovo responsabile è molto interessante a cg allo stati cg al cg al cg al cg al ristorante mi parli degli incontri e prepararli è devastante rompi il ghiaccio la compieta il gioco del mercante ricordi alla cr era tutto più tranquillo sembra ieri no pensieri salti come un grillo adesso il tuo problema è la vecchiaia che ti annega aspetta che ti mostro la casa di nico sbrega suona 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 il clacson da nico sbrega aspetta da quest'anno il boss è nico sbrega è tutto molto affaticante la mia vita è stressante è tutto molto affaticante responsabile è stressante il lavoro da ingegnere mi guadagno le dentiere per due volte laureato molta gente ho aiutato mi devo laureare e ti lamenti degli esami io capisco interessante sì ma parlane con dammi mi segui di parrocchietti rispondo in un istante whatsapp web nel computer sempre funzionante non ti preoccupare non mi servono badanti a tre ponti in via papilla c'è sempre la magia al secondo piano c'è mia mamma che ti strega aspetta che ti mostro la casa di nico sbrega suona 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 il clacson da nico sbrega aspetta da quest'anno il boss è nico sbrega tutto molto affaticante la mia vita è stressante è tutto molto affaticante non prendere l'assente di nico come un'offesa non è il suo problema c'ha il fegato che gli pesa per farlo perdonare ti facciamo una sorpresa per farlo perdonare ti facciamo una sorpresa danza il salvatore abbia rubato una ripesa aspetta che ti mostro la lastra di nico sbrega suona 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 il clacson da nico sbrega aspetta da quest'anno il boss è nico sbrega oh non abbiamo visto mettete like aspetta da quest'anno grazie